Buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV. Questa è la rassegna stampa, sono le 7.30 e siamo come sempre, come tutte le mattine in diretta. Allora, subito vediamo il Santo del Giorno. La Chiesa oggi ricorda Santa Maria Magdalena di Magdala. Il sole è sorto alle 5.46 e tramonterà alle 20.43. Io sono andato un po' avanti con i giorni, adesso volevo dirvi qualcosa di più di Maria Magdalena, ma ci fermiamo qui. Allora, andiamo sulle previsioni del tempo. Previsioni del tempo per la giornata di oggi, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature in lieve momento le minime. Domani sabato, vedete, peggiora, peggiora dal pomeriggio. Avremo rovesci sparsi, soprattutto nelle zone dell'entroterra, ma sapete, non è che c'è, quando parliamo di tempo, non è che c'è un muro qui sì e là no. Quindi vedremo se ci sarà uno sconfinamento da parte di questa perturbazione verso la costa. Per il momento, secondo la protezione civile delle Marche, no. In aumento sono le temperature nei valori massimi, i venti sono di brezza tesa, moderati. Mentre per la giornata di domenica, ecco, qualcosa cambia anche sulla costa, in particolare sul Conero, a sud del Conero, e nell'entroterra meridionale delle Marche, insomma, continuano questi temporali, questi rovesci sparsi, più insistenti nelle zone interne, anche di forte intensità. Per quanto riguarda il tempo per lunedì, lunedì avremo tempo ancora instabile, però c'è un ritorno a condizioni di tempo soleggiato per il resto della settimana. Andiamo sul resto del Carlino, cominciamo la nostra segna stampa con le scatole cinesi scoperte dalla Guardia di Finanza di Urbino, che sgomina un'organizzazione che operava nel settore tessile, creando aziende e poi facendole morire in breve tempo per evadere le imposte. Un arresto e alcuni sequestri di beni per 1 milione e 600 mila euro. La guerra fredda di Via Colbe, a Pesaro i residenti dicono bene il senso unico, è la replica agli abitanti di Via Raggi che si sono opposti alla sperimentazione. A Urbino invece sgarbi invita Toni Negri e scoppia subito il Finimondo, interviene il Partito Democratico. Ricorderete la storia, la vicenda, la tragedia che ha colpito una famiglia che ha perso il bambino in un incidente stradale, il proprio figlio Edoardo di pochi anni che viaggiava in sella al motorino insieme al papà. Ebbene, il processo ha assolto il padre del piccolo Edoardo, grazie giudice ha ringraziato il papà, ma la mia pena non finirà mai. Alessandro guidava lo scooter su cui sedeva il bambino, poi travolto e ucciso dal trattore. La splendida foto di questo bambino pubblicata sul giornale questa mattina, mentre la foto grande è la strada, la strada della selva a Centinarola di Fano dove purtroppo il piccolo Edoardo ha incontrato la morte a bordo del motorino che si è schiantato contro un trattore. Edoardo aveva otto anni, è morto il 26 giugno dell'anno scorso cadendo dallo scooter su cui viaggiava con il papà Alessandro, una caduta che lo ha fatto rotolare sotto le ruote di un rimorchio agricolo carico di grano che viaggiava in senso opposto. Il suo legale dice che in quella strada non poteva transitare il trattore perché è superiore alle due tonnellate. Il GUP ha rinviato a giudizio per omicidio colposo il conducente del trattore verso il quale verrà intentata una causa civile. Il processo penale è stato fissato per il 4 ottobre prossimo. La pagina di Fano invece apre con la vertenza dell'Azimut Benetti, Benetti che cede alla Carbon Line. Ieri mattina c'è stato un incontro dei sindacati con i vertici dell'azienda, il cantiere con gli 89 dipendenti in cui lavorano li passano alla nuova società. CGL e Cisle Willi, i sindacati riconfermano comunque tutte le perplessità e le preoccupazioni per il futuro dei lavoratori. Poi il 27 di luglio al MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, ci sarà un incontro tra la proprietà e il sindacato. Ancora dal resto del Carlino scatta la gara di solidarietà per Maurizio e Maria. La loro casa era finita all'asta, ora vivono in auto da mesi. Il cuore dei fanesi si è mosso, arrivano anche offerte e messaggi a centinaia. Dunque in città non si spegne l'eco dell'indignazione per questa storia che vede appunto protagonisti loro malgrado una coppia di sessantenni fanesi costretta a vivere in auto da quando la loro casa è andata all'asta giudiziaria per saldare i debiti di un'attività commerciale che purtroppo era andata male. Addio, e siamo sulla pagina di Pesero, a Baby Clementoni. Aveva 85 anni, debuttò nella Vis Pesero, arrivò persino in serie A. La fotografia, eccola qua, di Baby Clementoni che verrà salutato per l'ultima volta alle 9 nella chiesa di San Luigi dove si svolgeranno i funerali. Alberto Clementoni, così si chiamava, ma per tutti è Baby, scomparso nella tarda serata dell'altro ieri all'età di 85 anni, centrocampista di talento. Debuttò nella Vis Pesero nel 1948, ma arrivò anche in serie A nella Fiorentina nella stagione 1951-1952. E adesso apriamo invece il Corriere Adriatico. In apertura il molestatore che è finito in libertà, la rabbia dei genitori, parliamo di una vicenda che ha visto protagonista a Pesero un riparatore di bicicletta. Ha patteggiato due anni per abusi su un minore, una ragazzina di 13 anni. Lui è tornato immediatamente libero, la famiglia della ragazzina insorge per la pena ritenuta irrisoria, soltanto due anni. Il caso risale l'anno scorso quando questo artigiano, riparatore di bicicletta del centro storico di Pesero, è stato arrestato per molestie e abusi su minori. Show allo Sferisterio, centropagina, la notte della prima, grande esordio del MOF con l'hotello di Verdi. E poi sopra ancora altre notizie in breve, con Fano Jazz by the Sea, NOA apre la serie dei grandi concerti, sempre a Fano. E poi l'Alma, oggi cerca l'intesa con il giocatore Borrelli. La Vis intanto aspetta Santos. Sotto rivoluzione sanitaria a tappe forzate, a fine anno chiudono i punti di primo intervento, ancora da ruolare nei presidi i medici di base. Andiamo sulla pagina di Fano invece del Corriere Adriatico. C'è la storia di un pensionato, lo vedete in questa immagine qua sopra, eccola qua, Antonio Monaldi, che vive da un mese senza acqua e ha deciso di querelare Aset. Questo è un attentato, dice, alla salute. È un invalido, non riesce a pagare purtroppo le bollette, Aset ha staccato quindi l'acqua, gli chiede un nuovo allaccio, che però deve essere pagato oneroso. E quindi, insomma, lui dice, come faccio? Senza soldi? La denuncia anche contro il Comune, a cui aveva chiesto soccorso. Per fortuna è stato aiutato, questo signore è stato aiutato da una vicina di casa. Cento nuovi alloggi invece a Rosciano di Fano. Nell'edilizia Cecchi sfida la crisi. Al Via l'ha contestata luttizzazione di Via Forcolo. Previsto un nuovo centro civico. Ecco l'area in questa foto grande, a scomputo degli oneri di urbanizzazione. La ditta che costruirà tutti questi appartamenti dovrà realizzare anche una rotatoria, una pista ciclabile e dei parcheggi. Quattro passi con Filippo, tra antenati e fantasmi. Filippo Tranquilli, eccolo qua, mentre immagino stia interpretando una sorta di fantasma. Con Filippo Tranquilli si potrà fare questa passeggiata tra i palazzi del centro storico. È una passeggiata cosiddetta, chiamata della paura, che verrà effettuata il 28 luglio prossimo, con partenza alle ore 22, dal portico del Teatro della Fortuna. Tra storia, miti locali e il clima di mistero. Ma con Filippo ci si farà sicuramente anche qualche risata. Allora, sulla pagina della Valle del Cesano, del Corriere Adriatico, questa mattina di nuovo si torna a parlare dell'Adriatic Crow, il turismo cavalca l'onda giusta, invasione per questo sport, Marotta, capitale del Sup, lo sport che fonde surf, kayak, trasport e festa. È una bella disciplina, un bello sport, anche da vedere, molto suggestivo, questa cosa, sembra quasi che camminano sull'acqua. Furti, imperversa la banda del cuscino, tanti colpi con il bottino nascosto in una federa, serve la videosorveglianza. Ancora dalla pagina di Senigallia, movida e esagerata, le notti d'estate, quelle che vogliono che i giovani si divertano con la musica, ma con la musica alta. Poi ci sono i turisti, quelli magari di una certa età, che vogliono riposarsi, che lavorano tutto l'anno, che scelgono Senigallia, così come tante altre città della costa, per riposarsi e che difficilmente digeriscono questa moda di sentire la musica troppo alta fino a notte fonda. E allora si cerca una via di mezzo, il buon senso. La movida esagerata però a Senigallia fa scattare una pioggia di diffide. Vogliamo far rispettare la legge, perché c'è una legge sui decibel, c'è una legge che stabilisce che da una certa ora in poi non si può fare troppo chiasso, non si può tenere la musica troppo alta, soprattutto per i locali pubblici e quant'altro. I residenti hanno inviato le notifiche al sindaco Mangialardi, a tre gestori e ai proprietari dei locali. Il popolo della notte però chiede più tolleranza, noi dobbiamo divertirci, noi siamo qui per divertirci, difficile rispettare, dicono ancora, questi limiti. L'altra pagina del Corriere di Senigallia, eccola qui, guardate che bella piazza, molto bella. Verrà, c'è suspense per questa piazza che si chiama Piazza Garibaldi, sempre a Senigallia. Perché? Perché deve essere ancora inaugurata. È partito il conto alla rovescia, già tre iniziative contro gli stemmi papali. Il sindaco si tratta dell'intervento pubblico più importante degli ultimi 50 anni per la città. L'ultima pagina, torniamo sul resto del Carlino e come abbiamo fatto in questi giorni, senza fare torti a nessuno, ecco chi sono i genietti del Benelli. Sono sei, i giovani diplomati con il massimo dei voti, che si sono meritati la fotografia anche sul giornale e di riflesso dunque, di rimbalzo anche qui in televisione. Due vengono dai corsi serali, li vedete stampati in questi, sorridenti soprattutto su questa pagina del resto del Carlino. È tutto, noi ci fermiamo qui. Vi ricordo che c'è la giornata mondiale della gioventù che sta partendo, quindi noi la seguiremo, la seguiremo con le dirette del centro televisivo Vaticano e seguiremo anche i nostri giovani, quelli della diocesi che sono già partiti e che stanno raggiungendo appunto la città polacca, dove si svolgerà la GMG, la giornata mondiale della gioventù con Papa Francesco. Io mi fermo qui, stasera c'è il telegiornale. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.